Grazie a tutti E anche il nuovo ruolo, che cosa comporta E poi abbiamo il piacere di riavere qui in studio il dottore Enrico Grigolin Vicepresidente dell'Ordine sempre dei dottori commercialisti e esperti contabili di Padova Grazie anche a lei di essere qui con noi In primis, visto che parliamo di tante cose, parliamo anche di crisi di impresa Cercheremo di capire quali sono le possibili soluzioni anche stragiudiziali, le novità normative Qual è lo stato della situazione di tante realtà Ci sono troppi allarmismi oppure è corretto stare molto allerta, molto attenti Cosa possono fare gli imprenditori, cosa è bene fare a livello precedente Prima di precipitare una situazione grave Ci sono degli elementi sintomatici di una malattia dell'azienda e dell'impresa E qual è il ruolo dello studio commercialistico che segue le aziende Perché poi essere seguiti da esperti, dottori commercialisti che hanno uno studio, che sono riconosciuti, che sono iscritti all'ordine E quindi cambiare le cose per quelle piccole realtà aziendali che magari hanno sempre fatto così Però così non si può più fare, perché sono entrati in vigore delle nuove normative Allora Presidente, innanzitutto questa nuova carica, nuove responsabilità Però anche una bella posizione, un periodo stimolante immagino Indubbiamente un incarico molto impegnativo Che sto vivendo con un elevato senso di responsabilità Rappresento, insieme chiaramente al mio consiglio, dove il dottor Grigolin è vicepresidente Rappresento più di 1650 iscritti Quindi... Solo per il discorso di Padova? Solo per Padova Per cui, ecco, io dico che il senso di responsabilità è sicuramente molto elevato Indubbiamente è poi un incarico che dà grosse opportunità di relazione Di potersi attivare proficuamente nell'interesse della categoria Anche grazie poi alla relazione con altri presidenti Che costituiscono, diciamo, l'entità Triveneto Il nostro ordine appartiene a quello che viene identificato come sistema Triveneto Per cui si creano delle relazioni anche, diciamo, non solo sul piano della formazione Ma anche per attivare ciò che può essere di interesse per gli iscritti Ecco, cosa vuol dire? E' per non addetti ai lavori Perché ovviamente è un professionista, l'ho stato benissimo Ha fatto un'esame di Stato, eccetera Per non addetti ai lavori Avere come punto di riferimento uno studio professionale Dove ci sono dottori commercialisti Perché adesso diventa una condizione sine qua non Per poter essere più tranquilli E quindi in capo al professionista che è iscritto all'ordine Quali ulteriori incombenze ci sono? Chiedo a lei, dottoressa, poi che ha il vicepresidente Perché tutto cambia col tempo, molto rapidamente Diciamo che il panorama di attività del commercialista è sempre più complesso E correlativamente le realtà che devono affrontare le imprese E' allo stesso modo molto complesso Non c'è settore dell'attività economica Che non richieda una conoscenza approfondita Specialistica Tanto che anche all'interno Diciamo degli iscritti All'ordine dei commercialisti C'è la necessità Non dico solo la tendenza Ma addirittura la necessità Di specializzarsi Perché oggi è impossibile Conoscere approfonditamente Tutti Tutta la normativa La prassi E tutto ciò che serve sapere Per gestire correttamente Una determinata problematica L'ordine attraverso la sua attività Garantisce Possiamo dire In linea generale La preparazione e la competenza Dei suoi iscritti La formazione continua Perché ecco Giustamente Lei ricorda Che i professionisti In particolare I autori commercialisti Hanno l'obbligo Di formazione continua Il che vuol dire Che entro Che nell'arco temporale Di un anno Hanno Un determinato numero Di cosiddetti Crediti Formativi Che corrispondono A ore di formazione Partecipazione A corsi Convegni Oggi Molto spesso Svolti anche nella forma Del webinar Quindi online Che in assenza Delle quali Ore O crediti Ci possono essere Delle sanzioni Anche Disciplinari Quindi Questo da maggior garanzia Anche Questo da Ecco Per cui L'invito È sempre quello Di rivolgersi A professionisti Iscritti All'ordine Certo Vicepresidente Un ruolo anche Di consulente Adesso quello Del commercialista Di supporto Tanto è vero Che ormai Ci siamo avvicinati Ai modelli Di oltreoceano Con studi Poliedrici Dove esiste anche L'avvocato C'è appunto Il tributarista Ma ci può essere Anche il notaio Anziché altre figure Quindi Studi sempre più ampi Che danno Una copertura E una visione Anche All'azienda Che si rivolge Più ampi A causa Di tutte queste normative Che ci troviamo Che ci imbrigliano L'esistenza Assolutamente Diciamo che Ormai l'azienda Ha bisogno di avere Una consulenza Specialistica Le tematiche Che si trova Ad affrontare Quotidianamente Molto difficilmente Possono essere Affrontate E gestite Da un unico Professionista Diciamo Diciamo poi Che il numero Di studi Multidisciplinari Che sono quelli A cui fa riferimento Lei Cioè dove Troviamo Commercialisti Avvocati Notai Eccetera Non sono poi molti Ma però Diciamo che Stanno aumentando Però Stanno aumentando Perché ci stiamo Accorgendo Di quanto importante Sia anche sotto Il profilo strategico Intervenire Con una consulenza A 360 gradi Dove sostanzialmente Ci sia all'interno Dello studio Chi si occupa Di una determinata Tematica Chi si occupa Di crisi Sa prevalentemente Affrontare questioni Legate alla crisi Chi si occupa Di tributario Fa prevalentemente Quello Ed è in grado In questo modo Di dare il meglio Nell'ambito Del settore In cui ha Una sua specializzazione Quindi Assolutamente Sì Diciamo che Questi sono studi Dove si può trovare Diciamo così La risposta A ogni esigenza Dell'azienda Diciamo però Che appunto Stanno aumentando Non sono tantissimi Molti sono Gli studi Mononucleari Diciamo così Che riescono In ogni caso Pur con qualche difficoltà E senza le agevolazioni Di una struttura Dove ci sia Un'organizzazione interna Insomma Con suddivisione Di aree A dare una risposta Adeguata Attraverso Il reticolo Di relazioni Che ogni professionista È riuscito E riesce Comunque a crearsi Perché sta un po' Nel DNA Del commercialista Avere il contatto Con la banca Avere il contatto Con il professionista Che si occupa Di una materia Che non è coperta E via di questo passo Insomma Adesso In questo momento Tenuto conto Anche della situazione Del mercato È essenziale Che i professionisti Si attrezzino Anche quelli più piccoli Per assistere L'impresa Rispetto a quelle Che sono le prospettive Di una continuità Aziendale Perché aumentano I costi Delle materie Prima Il contesto Si fa sempre più incerto Alla pandemia È seguita Una guerra Quindi il conflitto Russa e Ucraina E quindi sostanzialmente Questo ha generato Grosse difficoltà In questa fase È fondamentale Essere in grado Di fare programmazione Guardare avanti E mettere giù dei piani Anche elementari Se vogliamo Perché questo tipo Di attività Non è così facilmente Declinabile In realtà Di piccolissime dimensioni Tipo non so L'artigiano Il piccolo imprenditore Ma che gli consentano Comunque di fare Un'attività previsionale Deve guardare avanti L'imprenditore Per capire Dove si muoverà La sua azienda Rispetto ai marosi Insomma Del mercato Che adesso Stanno diventando Sempre più incerti E sempre più Perigliosi Insomma Assolutamente Dando un occhio Al poco tempo fa Pieno covid Quindi tanti provvedimenti Anche normativi Di supporto Ai professionisti Alle aziende Eccetera Poi si vedeva Una proiezione Di rialzo del pil Che ci faceva vedere Le stelle Addirittura Si parlava del 6-7% Poi adesso Siamo precipitati A picco Quindi voi Cosa avete osservato Dei cambiamenti Anche relativamente Alle crisi di impresa Ai fallimenti C'è stata una stasi Uno stallo Come è andata la situazione Se riusciamo ad arrivare Presso al primo trimestre A questo punto Di quest'anno Perché poi In questi giorni È stata pubblicata Un'interessante analisi Fatta dalla Banca d'Italia Che analizza L'andamento Delle procedure concorsuali Dal 2019 Al 2021 E comprendendo anche I primi mesi Del 2022 L'emergenza Covid Ha avuto un impatto Piuttosto importante Sul sistema economico Tanto che Si pensava Che Le conseguenze Di questa pandemia Avrebbe generato Un numero Rilevantissimo Di Chiamiamo Uscite dal mercato Delle imprese Sia come Uscite diciamo Volontarie Sia come procedure Tanto Da generare Poi A cascata Effetti importanti Sull'indotto Quindi Sulla filiera E se vogliamo Anche Ripercuotendosi Su quella Che è L'attività Dei tribunali Quindi voi L'avete Meretta All'inizio Diciamo Non solo noi Ma L'aspettativa Era quella Di Una Prepariamoci A qualcosa Di devastante In verità Analizzando I dati Della Della Banca d'Italia Delle analisi Fatte dalla Banca d'Italia Emerge Come Il numero Delle procedure Più in generale Delle imprese Uscite dal mercato Dal 2019 Al 2021 Si è fortemente Ridotto Rispetto I livelli Del 2019 Prendo per esempio Padova Esatto Che tra l'altro Precisiamo una cosa Perché Mi sono portata I numeri Così sono anche più Nel 2019 A Padova Sono state dichiarate Procedure concorsuali 220 procedure concorsuali Suddivise tra 185 fallimenti E 35 concordati Nel 2021 Nel 2021 Sono state dichiarate Quindi 150 procedure Totali Cioè In controtendenza Rispetto a quelle Che potevano essere Le aspettative A inizio pandemia Come si spiega Come si spiega questo Questa tendenza Si spiega Con gli interventi Di supporto Importanti Che lo Stato Ha messo in campo Quindi voi Toccando Calcoli alla mano Avete riscontrato Che sono stati Interventi Che sono serviti Perché tanti Ci sono stati Detrattori C'è chi ha detto Ma non è stata Una cosa Che poteva servire Invece di fatto Avete riscontrato Che È stato riscontrato Proprio questo Io mi occupo Anche di procedure Concorsuali E l'ho constato Tutti i giorni Nel senso che Frequentando anche I corridoi Del Tribunale Il Palazzo di Giustizia Effettivamente E il numero Delle procedure Si è Fortemente ridotto Ecco Quali sono stati Gli interventi Messi in campo Dallo Stato Credo di non dire Cose nuove Se mi riferisco Alla Alla moratoria Nei pagamenti Dei Debiti Bancari E Alle garanzie Dello Stato Attraverso Attraverso Il Medio Credito Centrale A fronte Di crediti Concessi Dalle banche E poi E poi anche I famosi Bonus E aiuti Di Stato Quindi Queste misure Hanno di fatto Consentito Alle imprese In difficoltà Per la pandemia Di recuperare Della liquidità Per evitare Il default Assolutamente A fronte Di una situazione Vicepresidente Dove 2019 Però sappiamo bene Che tutto andava bene Sì Diciamo Gioco di parole Però è stato un bellissimo Adesso Lo si dice Un anno Eccezionale Per fatturati Per crescite Di aziende Eccetera Anche se al tempo Sembrava sempre L'italiano Tendeva a piangere Direi che rispetto A quello che è successo dopo Possiamo dire Che il 2019 È stato un anno Straordinario Adesso I numeri Di come si sia chiuso Quell'anno Lì non li ho Però ecco Diciamo che C'è questa situazione Un po' Così anomala Dove effettivamente Di procedure concorsuali Ce ne sono poche Come diceva il Presidente Assolutamente Gli interventi emergenziali Hanno avuto I loro effetti Perché effettivamente Già solo il fatto di Come dire Avere una moratoria Sui mutui Aiuta ovviamente L'impresa A recuperare liquidità E destinarla Laddove sostanzialmente Non puoi avere Delle tolleranze Delle agevolazioni Però La situazione attuale È una situazione Che si fa fatica Anche a decifrare E dove molti Devo dire Che pure noi In qualche modo Ci mettiamo Ritengono che Insomma Di situazioni Di difficoltà Di imprese In difficoltà Che possano Evidentemente Sfociare In difficoltà Sfociare In condizioni Di insolvenza Ce ne siano tante Sul mercato Sì Sì Non è che Questi numeri Diano la cifra Non diano la cifra Di una Come dire Di una situazione Che è stata recuperata E quindi La ripresa C'è stato un effetto Come dire Elastico Perché ovviamente C'è stata una Riduzione molto forte D'attività economica E poi quando Insomma Ci sono state È stata allentata La morsa Insomma Delle restrizioni Ovviamente L'attività economica È ripresa Fermo poi Essere Subire un Contracolpo Dalla crisi Ucraina Che Ucraina Legata Legata al conflitto Il conflitto bellico Però tantissime aziende Che hanno avuto Quelle agevolazioni Lì Ora si trovano Poi a dover far fronte Comunque a quei debiti E Alcune di queste Hanno perso mercato Fanno fatica A come dire A trovare degli accordi Per rimettersi In equilibrio E quindi Non si esclude Che l'anno Della verità Debba ancora venire Ecco Quindi diciamo Che dobbiamo Sicuramente Essere cauti Anche perché Effettivamente Quello che sta capitando Quello che si è verificato Non trova riscontro In previsioni Da parte di esperti Perché tutti quanti In tantissimi casi Insomma Si immaginava Già un 2021 A 22 Molto Molto Catastrofico E comunque Molto difficile Per le imprese Potrebbe essere Come dire Una crisi Che si sviluppa Piano piano Nel corso degli anni Grazie appunto A questo Effetto Che si è riusciti A ottenere Attraverso Questi interventi Da parte del governo Quindi allora Un capitolo saldo È questo Interventi del governo Sono stati positivi Voi li riscontrate con mano Perché siete dentro Le aziende E quindi al di là Di quello che può essere Sbandierato o meno C'è stato un apporto positivo Quali sono invece Se li avete riscontrati Degli errori Che le aziende Hanno commesso E che possono portare Delle conseguenze Perché è tipico Non so Anche del commercialista Consigliare L'imprenditore Attenzione Non fare questo tipo Di azioni Poi molte volte L'imprenditore Manco si consiglia Consulta Col commercialista Fa le cose Voi vi trovate Diciamo La patata Cotta Anche se non va bene Secondo il suo punto di vista E poi anche secondo il suo Lei che poi anche È operativa In tribunale Vede delle cose Ha visto cose Eclatanti Il problema Fondamentale Dell'imprenditore E soprattutto Quello Diciamo Di dimensioni Più contenute È quello Di Riuscire A cogliere Tempestivamente I segnali Di crisi Questo io L'ho constato Non ce l'ha questo 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 L'imprenditore È l'ultimo Ottimista Diciamo salvo Delle eccezioni Per carità Però possiamo dire Che l'imprenditore È meno strutturato È come dire Non si arrende Cioè Non si arrende Non Tante volte Non vuole vedere Nonostante magari Il consulente Gli segnali Le situazioni Di tensione Di difficoltà E quindi Inevitabilmente Io ritengo Che l'errore Più frequente È quello Di trascurare I segnali Di crisi Per poi Arrivare Inevitabilmente Alla situazione Di default Dove non c'è più Possibilità Di intervenire Dove non si può Attuare Misure alternative Rispetto a quella Che oggi Si chiama fallimento Si chiamerà liquidazione Con il nuovo codice Della crisi E questo Per la mia esperienza Penso che sia Un ambito In cui L'imprenditore Può fare Molto E anzi Alla luce Alla luce del codice Della crisi Dovrà Fare molto Bravissimo Lei ha introdotto Un aspetto Molto importante Alla luce Del codice Della crisi Sì Abbiamo una pubblicità Di qualche secondo Restate sempre con noi Perché adesso Sapremo questo capitolo Per capire anche Dai nostri esperti Quali possono essere Quei sintomi Che non bisogna Mai trascurare Un po' come Nella salute Salute di impresa È importante Perché ci sono poi Responsabilità di famiglie Lavoratori Un'azienda Un'avviamente Insomma c'è tanto Di cui andare Tenere sotto controllo Pubblicità Un'azienda